Più di mille ulivi abbattuti in cinque mesi. E' il triste bilancio di Coldiretti Puglia che nella sua analisi fa sapere che sono esattamente 1054 ulivi infetti abbattuti da giugno ad oggi in regione. Una misura molto sofferta, si legge in una nota della Coldiretti, che si è resa necessaria per arrestare l'avanzata della Xylella, il batterio killer che interessa 8000 km2 di territorio, il 40% della Puglia. Nel monitoraggio di quest'anno sono state segnalate altre 240 piante infette. Serve tempestività per estinguere immediatamente i focolai attivi, aggiunto Coldiretti, con gli ulivi infetti che sono fonti di inoculo della malattia e bloccare l'avanzata inarrestabile della stessa in zona indenne, dove oltre all'abbattimento degli ulivi infetti si dovrà procedere anche sulle piante delle specie simili presenti nel raggio di 50 metri. La diffusione della Xylella fastidiosa, conclude Coldiretti Puglia, potrebbe costare miliardi di euro nei prossimi 50 anni in Europa se l'espansione della zona infetta non venisse arrestata.